E' una trema, e' una trema su di voi, gente senza un dio, senza una credenza, sono tornati in questo posto per portarvi una parola di speranza, spero che quel delinquente che mi ha fregato la vespa lo mettono in galera e buttami alla chiave, ecco cosa spero, credete forse che, sentitevi peccatori che non siete altro, voi che avete fatto del peccato e la vostra è filosofia, Sofocle e Gomorra, ecco cosa siamo diventati in questo posto barbaro e Busset, dove si sente per l'aria il ronzio dell'ape, è più immonda, l'ape è avversione, ecco cosa si sente, avete forse dentro di voi la doppia natura di Dottor Geschi e... Avete forse dentro di voi la doppia natura di Crick e Crot, credete forse che io e non vi veda, donne che siete la freccia della società e che andate in giro battendo gli angoli delle strade sporche bisettrici, ecco cosa siete, donne che andate in giro anche giando sui tacchi a squillo, perché volete indurre la gente a simolare in tentazione, e a voi io dico minnesote, ecco cosa vi dico, volete forse passare l'eternità fra le fauci del minotauro, l'orrido mostro metà uomo e metà minoreitano, donne che vi mettete, e qui lo dico e qui lo annego, donne che mettete gli annunci sui giornali, sporche messaggiatrici, sì e... Leggo qua la voce della pubblicità di Satana, persona discreta, sì discreta, cerca amici del demonio, in ambiente stimolante, rassodante, relax, citofonare, anche citofonare, citofonare Filippo, va dietro, culattazione, in questo mondo dove non si capisce più niente, uomini che si vestono da donne, donne che si vestono e da uomini, uomini che si vestono da fiorucci, che non so che non so cos'è ma deve essere una roba tremenda, c'è perfino il figlio di Amandalir, poverino, non so neanche lui se Amandalir è suo papà o sua mamma, qui lo dico, o che vado, o che qui lo dico, che dallo... no mi ribalzo... Grazie Grazie Grazie